Musica Buonasera e ben ritrovati a questa edizione del Tg di Venezia. E apriamo questa edizione ricordando che domani e lunedì 21 settembre si voterà per il rinnovo del Consiglio Comunale e le elezioni del nuovo Sindaco di Venezia. Le urne si apriranno alle ore 7 di domenica e si chiuderanno alle ore 23, mentre lunedì dalle 7 alle 15. Lo spoglio dei voti sarà scaglionato in due giorni non appena si chiuderanno le urne. Per protocollo sanitario di sicurezza si seguiranno alcune norme. Disinfettare la matita dopo ogni utilizzo, indossare le mascherine e fare attenzione al distanziamento sociale, nonché igienizzarsi le mani prima del voto. Sarà l'elettore infine ad inserire la scheda nell'urna. Nonostante la scuola sia iniziata solo da una settimana, si registrano i primi casi di coronavirus negli istituti scolastici. Amestre è stata una maestra all'Istituto Comprensivo Giulio Cesare a sottoporsi al tampone dopo la comparsa di alcune linee di febbre. L'Ulstre ha fatto scattare le indagini epidemiologiche dopo risultato positivo del test e ha contattato immediatamente la scuola e messo in isolamento il gruppo di bambini entrato in contatto con l'insegnante. Gli alunni verranno sottoposti al tampone e potranno rientrare a scuola solo dopo l'esito negativo e al termine del periodo di quarantena. Anche all'Istituto Comprensivo Mattei di Meolo ci sono stati due casi Covid. I due fratelli hanno scoperto la positività dopo che la loro mamma si era sottoposta al tampone. L'U4 ha poi contattato immediatamente la scuola come ha spiegato il preside. Siamo stati contattati dall'U4 mercoledì sera. Abbiamo avvertito le famiglie dei compagni di classe dei due bambini mandando prima un'email sul registro elettronico. L'intervento dell'U4 è stato rapidissimo. Anche nelle case di riposo al Centro Servizi San Giobbe è risultata positiva un'operatrice socioassistenziale. La positività ha fatto scattare un'indagine ma fortunatamente l'esito di tamponi su tutto il personale e gli ospiti, circa una settantina, è negativo. L'assessorato alla mobilità della città di San Donà e FIAB San Donà di Piave Vivi la Bici consigliano per domani la tradizionale escursione bici in famiglia intitolata Di qua e di là del Piave. Sentiamo Alessandra Natali. Numero massimo di 30 partecipanti ma la tradizionale escursione bici in famiglia domani si farà. FIAB San Donà di Piave Vivi la Bici e l'assessorato alla mobilità della città di San Donà di Piave hanno proposto la classica pedalata di breve lunghezza, circa 24 chilometri, denominata quest'anno Di qua e di là del Piave. Ritrovo ore nuove in piazza Indipendenza a San Donà di Piave e via lungo i sentieri ciclopedonali del Piave prima sulla sinistra e poi sulla sponda destra del fiume. L'evento si colloca nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. La preferenza dell'uso della bicicletta è stata rilevata anche da un'indagine dell'associazione FIAB Amici della Bicicletta che dalle 7.30 alle 9 ha rilevato in sette postazioni di mestre i transiti delle biciclette. Rispetto allo scorso anno c'è stato un incremento dei passaggi del 46%. È evidente, sottolinea FIAB, che i comportamenti dei cittadini in tempo del Covid sono cambiati e la bicicletta è tornata al centro della mobilità urbana. Il varco che ha registrato il maggior numero di passaggi è Viale San Marco Colombo con 1.053 passaggi seguito da via Caneve Bisuola con 751. Nell'ambito delle iniziative promosse dal Comune di Venezia per la Settimana Europea della Mobilità 2020 ieri a Zellarino è stata inaugurata la nuova pista ciclopedonale che collega Zellarino al Terraglio passando per Forte Mezzacapo. La pista, lunga quasi sette chilometri con quattro passerelle appositamente realizzate per superare altrettanti corsi d'acqua, è stata dotata di un impianto di illuminazione, tre stazioni di bike sharing e due fermate dal bus, completamente rifatte e messe a norma. Ha inoltre una larghezza ampiamente sufficiente a consentire il passaggio contemporaneo di pedoni e ciclisti ed è ombreggiata da circa 160 alberi. Questo piacevole percorso permette di conoscere le bellezze del nostro territorio e scoprire in tutta sicurezza nuovi panorami. Purtroppo ieri, poco prima delle 17, lungo l'autostrada A4 all'altezza dello svincolo Sanstino di Livenzo in direzione di Trieste è accaduto un tamponamento tra mezzi pesanti, tra cui una bisarca che trasportava 12 automobili. Nell'impatto due persone sono rimaste ferite. Il personale suo ha eseguito i primi soccorsi e poi gli autisti sono stati trasportati in pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Portogruaro e Mestre con un autogru per mettere in sicurezza i mezzi. Dal Veneto orientale cambio dei medici di medicina generale che andranno in pensione. In arrivo nuovi medici per San Donà, Eraclea e Meol. Servizio di Alessandra Natali. L'azienda sanitaria Veneta sta provvedendo alla sostituzione dei medici di medicina generale che andranno in pensione. A San Donà di Piave dal primo ottobre andrà in quiescenza il dottor Callovi. Ad Eraclea a lasciare saranno il dottor Pollon e il dottor Baccichetto. Tutti gli assistiti dei medici in uscita riceveranno una lettera che fornirà le indicazioni per la scelta del nuovo medico di famiglia. Cambio previsto sempre dal primo ottobre anche per i pediatri di Eraclea e di Meolo. Il direttore generale dell'US4 Carlo Bramezza ha voluto ringraziare i medici uscenti. La situazione è di una diffusa carenza dei medici di famiglia ma all'utenza viene comunque assicurata una continuità del servizio. Questa mattina nella Basilica dei Frari si sono svolti i funerali di Antonio Casellati, ex sindaco di Venezia. Casellati è morto nei giorni scorsi a 92 anni ed è stato legato alla storia politica e amministrativa della città ricoprendo importanti incarichi. Eletto una prima volta in consiglio comunale nel 1965 venne nominato sindaco per due volte nel 1987 e nel 1990 per poi ritirarsi dalla politica attiva. Con una nuova ordinanza regionale sono stati riaperti oggi fino al 3 ottobre gli stadi per le competizioni federali. Mille il numero massimo di spettatori per manifestazioni all'aperto mentre 700 per quelle al chiuso. Ci sarà sempre l'obbligo di mascherina al chiuso mentre per le manifestazioni all'aperto sarà necessaria utilizzarla negli spostamenti sia in ingresso che in uscita. Tutti gli spettatori dovranno occupare per tutta la durata dell'evento esclusivamente i posti a sedere specificatamente assegnati. I gestori degli impianti dovranno predisporre appositi varchi per permettere l'ingresso ordinato al fine di evitare assembramenti nel momento del controllo della temperatura e dei biglietti. L'utilizzo di tecnologie digitali permetterà un maggior controllo e registrazione degli spettatori. Verrà attivato anche un servizio per assistere il pubblico e controllare il rispetto delle norme comportamentali. Ed è tutto per questa nostra edizione, io vi ringrazio, vi ricordo il nostro sito e i nostri social. Grazie e buona serata! Grazie a tutti!